Presentate a Palazzo Santa Lucia le iniziative della Regione Campania a sostegno del diritto allo studio, a partire dall'avvio dell'azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania, che in sostituzione delle sette ADISU presenti ha consentito la riorganizzazione e la razionalizzazione dell'intero settore. Per la prima volta verranno pagate entro l'anno accademico in corso il 100% delle borse di studio per studenti meritevoli delle Università Campania, 16.502 borse per un totale di 54 milioni di euro, stanziati inoltre 70 milioni di euro per gli anni accademici 2018-2019 e 2019-2020. Volevamo informare ovviamente gli studenti che abbiamo quest'anno raggiunto un risultato vero storico per quanto riguarda le borse di studio dei nostri universitari. Quest'anno per la prima volta pagheremo entro l'anno accademico corrente tutte le borse di studio degli studenti idonei. Quindi pagheremo 16.500 borse di studio dell'anno accademico 17-18 entro il 2018. È davvero un traguardo importante che si aggiunge all'offerta di un servizio di ristorazione che copre il 100% della domanda. Per quanto riguarda i servizi di ristorazione sono state attivate 18 convenzioni e a partire dal 5 aprile scorso è stata eliminata la soglia massima di pasti giornalieri consentendo a tutti gli studenti di poter consumare un pasto durante gli orari previsti dalle convenzioni. Esisteva prima un tetto di spesa per cui 6.000 studenti universitari non riuscivano a godere del servizio di ristorazione. Abbiamo eliminato questo tetto di spesa e da questa estate, dal 5 aprile, altri 6.000 studenti universitari possono godere della ristorazione presso i ristoranti convenzionati con la regione Campania pagando da 2 euro a 3,5 euro per un pasto. È davvero uno sforzo enorme che stiamo facendo a cui si aggiunge la copertura per le borse di studio per 70 milioni di euro per gli anni accademici 18-19-19-20. Tutto questo si aggiunge al trasporto gratuito per 110.000 studenti universitari. Credo che davvero oggi siamo all'avanguardia come regione Campania. Inoltre è stato completato l'iter per il bando Io Studio Regione Campania, ammesse a finanziamento 12.830 borse di studio da 400 euro ciascuna, riservate a studenti delle scuole superiori di secondo grado campane provenienti da famiglie bisognose.